Oggi non è stata una partita eccezionale, abbiamo alternate fasi dove proponiamo del buon calcio, delle buone giocate, delle ottime soluzioni, altri momenti in cui commettiamo delle grosse ingenuità, però penso che sia inevitabile per una squadra come la nostra costruita all'ultimo, con ragazzi tutti nuovi, messi assieme, però io li vedo settimanalmente, i ragazzi sono in crescita e questa vittoria può aiutarci solamente a continuare a crescere. Premista Anconissa Coulibaly in crescita, poi c'è stato quell'episodio un po' contestato che fa parte un po' all'interno di tutta una gara che dal punto di vista arbitrale forse non è stata ottima, però forse quello che dispiace è poi perdere questo ragazzo che è parso sempre in crescita. Sì, commette troppe ingenuità, nel primo tempo ne ha commesse tre una dietro l'altra, una è costata la munizione a Scevchenko, quindi il ragazzo ha dei margini di miglioramento, però deve crescere, deve crescere tanto perché nella gestione della palla ad esempio la differenza tra l'esperienza che c'è a Scalia e quello che fa lui è stata notevole, notevolissima, si è vista in maniera lampante, però uno è un veterano, l'altro è un giovane, quindi diamogli tempo di crescere, però deve cercare di sbagliare meno, sbaglia ancora troppo, troppo palloni in zone nevragiche del campo. Abbiamo visto un ottimo inserimento di Messina, Cristaldi ha fatto una grandissima partita, Radiomercato dice che forse ci si aspetta ancora qualcosa, un po' il movimento intorno al Borrell oggi lo dice, serve anche questo per crescere al finale? Intanto la società è stata bravissima a pescare Messina perché ha dimostrato di essere un giocatore per noi importantissimo, si è dimostrato un ragazzo estremamente serio perché è arrivato preparato, cosa che difficilmente accade, i giocatori aspettano di trovare la squadra e aspettano a iniziare ad allenarsi quando la trovano, invece devo dire che domenica è arrivato preparato e oggi l'ha dimostrato, Cristaldi avevamo intuito le sue potenzialità, purtroppo fino adesso ha alternato partite buone e alcune meno buone dovuto al fatto che lui non aveva fatto una preparazione e quindi l'ha accusato un pochino, però sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore per noi importante. Sul mercato quello che si sente dire, ovviamente voi dovete lavorare con quello che è stato. Io settimanalmente vedo questi ragazzi in crescita e sono contento di quello che c'è, di quello che abbiamo a disposizione, se poi arrivano giocatori delle qualità tecniche umane di Messina ben venga, riuscissimo a trovare ancora almeno un giocatore da inserire nel reparto avanzato sarebbe ottimale, però io in questo momento non me la sento di lamentarmi perché sarebbe ingiusto nei confronti di questi ragazzi che stanno facendo cose eccezionali durante la settimana e alla domenica magari con qualche limite ma danno tutto quello che hanno a loro disposizione.